Siamo alla vigilia del derby d'alta quota con Bra, all'andata partita incredibilmente semplice per voi, sabato difficilmente è ipotizzabile un replay dell'andata, voi che gara vi aspettate? Sicuramente giocando anche fuori caso sarà più difficile, perché comunque il nostro è un campo difficile obiettivamente e l'abbiamo visto con molte squadre e comunque stiamo preparando questa partita come le altre partite, già dalla prima di campionato stiamo andando in campo pensando alla prossima partita e noi a quelle dopo, quindi la affronteremo come tutte le altre partite. Ovviamente sappiamo che l'avversario è un avversario notevole e quindi dovremmo impegnarci al 100% se non di più. Guardando Bra, che squadra è? Quali sono secondo te i punti forti di Bra e dove invece potete attaccarle? Beh, Bra si è dimostrata sin dall'inizio una squadra molto ordinata e che sbaglia poco, infatti essendo prima si è visto che non ha comunque commesso passi fa e c'è parte una partita però comunque le altre partite le ha giocate molto bene e quello invece ha il loro punto di forza. Noi siamo un po' imprevedibile quindi vedremo, non posso dire come affronteremo la partita però ovviamente al 100%. In bocca al lupo! Grazie!